Buongiorno, posso lasciarvi questo sconto? Vale oggi su tutti gli articoli, tranne quelli già scontati. E più tardi ci sarà la dimostrazione originale di Vigiletra. Ciao! Benvenuti a tutti, grazie per essere qua. C'è anche una ragazza che mi manda dei bacini, che bello, che affetto. Ci mette qualche minuto, no? Perché deve andare via l'alcol, deve rimanere il sapore del vino, ma non si deve più sentire l'alcol. C'è anche una ragazza che mi manda dei bacini, ma non si deve più sentire. Diciamo una fetta per ogni commensale, per ogni fetta di carne e la tagliamo a dadini. C'è anche una ragazza che mi manda dei bacini, ma non si deve più sentire. C'è anche una ragazza che mi manda dei bacini, ma non si deve più sentire. C'è anche una ragazza che mi manda dei bacini, ma non si deve più sentire.